Ciao a tutti, sono Beatrice, ho 23 anni e sono l'assistente store manager dello store di Milano Duomo. Il vino che vi presento oggi è la Malvasia Puntinata Core di Tenimenti Leone, un'azienda giovane con la passione per il territorio a cui appartiene. Difatti applica un'agricoltura biologica per i vini che produce. La Malvasia Puntinata in particolare è un vino secco, leggermente aromatico. Ha una buonissima acidità. Penso la vedrei bene magari con le nostre tartine, ma vi aspettiamo da signor vino per assaggiarli insieme. Grazie. 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 Grazie.